La strada scelta dall'esecutivo non piace ai 5 Stelle, a Renzi che parla di tagli necessari nella pubblica amministrazione perché in quel settore c'è grasso che cola, Di Maio replica così. L'unico grasso che cola è quello degli stipendi dei politici in Italia, è l'unico movimento che ha tagliato i propri stipendi, è il Movimento 5 Stelle dimezzando lo stipendio dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Se il governo vuole dare delle risposte prenda in considerazione la nostra proposta di aumentare la tassazione sul gioco d'azzardo per pagare gli stipendi ai poliziotti e alle altre forze dell'ordine.